Buongiorno, benvenuti a questa video video analisi del 11 gennaio 2017, video analisi che potete ricevere gratis via email, se cliccate sulla scritta che compare sopra la mia testa, video analisi realizzate insieme al broker STO, questo è il sito internet alla mia destra, sotto scorrono i contatti di Marco Pianezza, sono appena passati ma li vedete apparire nuovamente, mettete in pausa il video, eventualmente se volete prendere nota del numero di telefono, indirizzo email di Marco Pianezza per avere tutte le informazioni, anche per aprire un conto demo virtuale, giusto per vedere come funziona il discorso dei margini, spread, commissioni, come inserire un ordine, insomma vi invito anche all'apertura di un conto demo che non vi vincola assolutamente a nulla, nessun impegno e quindi giusto per capire come funziona il tutto, magari chi è abituato a lavorare sui mercati regolamentati si avvicina a questo mondo dei CFDs, CFD, contratti per differenza, che altro non sono, un doppione, replicano quelle che sono le quotazioni alla fine di DAX, Futsimib, tutti quei mercati, insomma gli strumenti che assolutamente siete abituati magari a operare su IDEM, Eurex, CME. Allora, lasciamo la signorina, salutiamo la signorina STO della home page e vediamo quella che è la piattaforma MetaTrader MT4, quindi di STO, questa è l'impostazione 30 minuti grafici Aikinashi, con dentro anche l'indicatore dei caroli Saikinashi che raggruppa un po' quella che è la mia strategia intraday, per speculare dopo massimi e minimi di giornata, e vedo proprio che sul cambio in quadratura, così si può vedere meglio, qui vedete la freccettina, dopo una partenza a ribasso c'è proprio l'inversione del nostro indice Futsimib. Idem praticamente qui sul DAX, la linea rossa delimita traccia il massimo di giornata, quella verde il minimo, insomma dopo una partenza stentata sembra che voglia ripartire, ci sono in questione acquisti, stanno confluendo acquisti sull'indice italiano. Perché questa situazione? Torniamo adesso a vedere, anzi vediamo per la prima volta oggi quella che è la situazione multiday, quindi grafici questa volta sono daily, posizioni da tenere aperte per più giorni, un trend non di lungo periodo, però insomma quello che è la situazione di, parliamo di trend di giorni e settimane, a volte può durare anche, oramai se seguite questa videoanalisi avete visto, può durare anche qualche settimana e questa è la situazione, il nostro Futsimib resta in un possibile ritracciamento dalla resistenza in aria 19.620, quindi anche l'ho ribadito ieri il concetto, si va verso quello che sarà il giudizio di una delle quattro agenzie di rating che viene utilizzata dalla BCE per fornire liquidità alle banche, DBRS canadese, che è l'unica che conserva la lettera A nel nostro rating. Se l'outlook è negativo significa che c'è una certa propensione a ridurre un downgrade di questo rating, se dovesse perdere quest'ultima A che è rimasta per l'Italia, le banche italiane avranno difficoltà a reperire liquidità presso l'istituto centrale di Francoforte, quindi in questo momento è ovvio che il mercato, gli operatori magari anche dopo il rally, dopo gli acquisti che ci sono stati negli ultimi giorni, vi faccio vedere anche il prospetto con i principali titoli bancari, vedete qui, ho aggiunto Azimut recentemente, questo è il Banco Popolare di Milano e Romagna, soprattutto da tenere sott'occhio, intesa Unicredit qui, poi al centro Mediobanca, UbiBanca e poi Azimut, siccome mi avanzava uno spazio, ho inserito perché prima c'erano Banco Popolare di Milano e Banco Popolare, che adesso non ho messo neanche l'ultima, l'aggregazione e la fusione che c'è stata, perché comunque il grafico non si può vedere in questo momento, non ci dice nulla e quindi ho messo Azimut a rappresentare comunque il risparmio gestito e tutti, 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 come potete vedere, rosso, rosso, rosso e chi nasce, possibile inversione, quindi tranne proprio Azimut, sembra che stia proprio adesso nuovamente testando, si vede anche un po' di verde sul titolo appunto Azimut. Torniamo alla rappresentazione degli indici Euro Daily, mettiamo la visualizzazione intera per avere quella che è la fotografia del mercato in questo momento sull'indice Europei, tutti in fase di possibile correzione, quindi questo è il Futsimiba, qui c'è il DAX, questo è l'Eurostox, il francese è l'unico dove, vedete, non ho tracciato la linea di resistenza, perché è vero che c'è stata la rossa, ma in una seduta leggermente positiva, quindi ulteriore fattore di prudenza, che aggiungo, elemento di prudenza, aspetto che se c'è la candela rossa, in una seduta in cui il titolo, in questo caso l'indice, scusate, chiude col segno meno, anche su un titolo, eventualmente sui titoli azionari si può adottare la stessa strategia, molti dei con le Aikinashi, quindi aspetto una doppia conferma, già le Aikinashi sono un atteggiamento prudente di approcciarsi al trading, questo è un ulteriore fattore, perché comunque, che cosa succede, le candele chinashi prendono in considerazione i prezzi della giornata precedente, quindi può capitare una candela rossa anche in una seduta positiva, però è ovvio che anche qui parliamo di una possibile inversione. Vediamo gli indici, invece, USA, nella giornata in cui ieri c'è stato il saluto di Obama e oggi conferenza stampa di Trump, per vedere se effettivamente comincerà, qual è l'atteggiamento, come si pone i mercati. Ieri, per esempio, colui che occuperà il posto del Dipartimento della Giustizia, c'è stata una sessione, audizione più che sessione, già ha smorzato i toni, cioè i cavalli di battaglia di Trump, dove parlava di reintrodurre la tortura, waterboarding ai sospettati di terrorismo, vietare il visto ai musulmani che arrivano in America, il Dipartimento Jefferson dovrebbe essere, si è già, ha detto, non intendiamo fare, non intendo fare, se io poi diventerò ovviamente a capo del Dipartimento di Giustizia, non intendiamo fare tutto questo, quindi vedete, già i proclami fatti in campagna elettorale sono smorzati, la cosa che però forse il mercato teme, se si va a ridurre, a ridimensionare i proclami legati all'attività, quella degli investimenti, riduzione della pressione fiscale, deregulation, e quindi, ecco, lo sappiamo, lo sappiamo, tra il dire e il fare c'è di mezzo Trump, Mr. Trump, e quindi già oggi dalla conferenza stampa avremo un'idea, ci darà un'idea, però sempre parole, perché poi il mercato aspetta ovviamente i fatti, però il mercato, allo stesso modo, deve regolarsi sulle parole, perché il mercato deve anticipare quello che poi potranno essere i fatti, buy a rumor, sell on news, compra sulla voce rumor e vendi quando la notizia è ufficiale, proprio per questo motivo, quindi torniamo ai diri grafici, la situazione dei mercati americani, vedete, c'è un Nasdaq che continua ad aggiornare i massimi storici, gode di assolutamente buona salute, il Dow Jones invece ci sta pensando dopo, scusate, arrivano pure le chiamate, scusate, il Dow Jones, eccolo qui, vicino proprio a me, che dopo aver spiorato più volte quota 20.000 e in una fase di possibile correzione dalla resistenza sui massimi storici, l'SMP500 dopo aver violato il livello 2268 al rialzo, in questo momento sta disegnando, ma bisogna aspettare assolutamente la conferma, una possibile candela rossa Aikinashi, comunque c'è tempo per vedere. Nasdaq così al rialzo, andiamo a vedere, perché con STO si può anche operare sui principali titoli americani, è sicuramente il più importante, quello più rappresentativo, è Apple, che, ho già fatto vedere ieri, ha violato la resistenza 11783, e sta approcciando, sembra voler puntare al successivo livello 12264, che è stato anche un fantastico ex supporto, questa linea qui praticamente. Cominciamo a vedere un po' di asset in dollari, forex e materie prime, il profilo, vedete io, anche voi con un unico schermo, createvi più profili, vedete, e poi da qui potete passare da un asset all'altro, da un continente all'altro, da un'azione all'altra, fantastico, chiamate Marco Pianezza, che vi dirà tutto come fare, come poter operare. Quindi, c'è USDCAD, che è evidente, che da queste parti, oramai, sembra voglia invertire, e se inverte qui, attenzione, potrebbe poi esserci un'accelerazione al ribasso del petrolio, che non è riuscito ad andare oltre la resistenza 54 e 72. L'altro mercato che scoppia di salute decisamente è il gold, oro. Ieri, oggi, ha toccato un nuovo massimo, vediamo in basso, non so, qui in pratica, quando passo sul mouse, vedrete la H, 1191 dollari. Guardate, tutte, candele, verdi, Aikinashi. Complimenti al gold, complimenti a chi ha speculato su questo rialzo. E ora come ora, il prossimo primo limite è vecchio supporto in area 1309, 1310 prosegue. Quindi, ovviamente, essendo gold quotato in dollari, aspetterà anche oggi, ascolterà chi, anche voi che operate su gold, tanto di orecchia, sentire le parole di Trump, perché sappiamo tutti l'avanzata del dollaro americano da quando è stato eletto, la spinta che ha avuto al rialzo del dollaro americano. Petrolio che, invece, come detto, è lì sotto i 54,72. Vediamo, invece, cambi contro dollaro. Questo è l'euro, sta disegnando una possibile rossa. Insomma, non decolla al rialzo l'euro dal supporto 10391. La sterlina è sempre lì che giochicchia, tra virgolette, sul supporto 1,21,70. Dollaro franco-svizzero, ovviamente, se l'euro-dollaro sta disegnando una potenziale rossa, il dollaro franco-svizzero, che è correlato inversamente, fa il contrario, e quindi una verde, il dollaro-yen, che è correlato a sua volta con il mercato azionario Wall Street e l'indice Nikkei di Tokyo, resta in questa situazione. Si sta allontanando, oramai, 200 pips dalla resistenza 118,25. Però, vedete, non è proprio un trend fluido, né sull'euro-dollaro, né qui dollaro-franco-svizzero, qui dollaro-yen, sterlina-dollaro, ancora di più perché c'è il fattore Brexit. Insomma, mercati di fase di assestamento dei mercati. A proposito di fase di assestamento, andiamo a vedere la correlazione gold-dollaro-yen, che ci dice se si allontanano risk-off, se si avvicinano risk-on, quindi risk-off si intende avversione al rischio, fuga dall'azionario Wall Street, in primis, mi riferisco, risk-on, quando invece c'è una certa voglia di rischiare, da parte degli investitori, e quindi in questo momento ci dice questa correlazione dollaro-gold sopra dollaro-yen in basso, che è risk-off, leggero risk-off, che poi alla fine è quello che abbiamo visto sui grafici, quindi quello che appena ho fatto vedere adesso, con tutta la rappresentazione dell'andamento degli indici americani, del dollaro, del gold, manca solo l'obbligazionario, e ve lo faccio anche qui vedere subito. Eccolo qua, e c'è questa situazione del, qualche zoom, del decennale americano, che ovviamente oggi potrà esserci della volatilità anche qui, in base a quello che dirà Trump, perché segue molto da vicino la dinamica dell'inflazione, e guardate il capitombolo che c'è stato nell'ultimo periodo, molto uguale, il grafico a quello del gold, e poi qui il decennale inglese, il Bund tedesco, e infine il BTP italiano, insomma tutti in questa situazione di attesa di nuovi sviluppi. Io mi fermo qui, vi ringrazio per la cortesa attenzione, appuntamento a domani con una nuova videoanalisi Intermarket, arrivederci! Grazie a tutti!